Sono l'avvocato di una suora che è defunta, vi ha lasciato un'eredità da 120.000 euro, ma dovreste darmi 2.500 euro per sbrigare le pratiche. Così un giovane torinese si è presentato al telefono all'Istituto Suore di Scepole del Sacro Cuore di Lecce. Era una truffa, non c'era alcuna suora scomparsa, né tanto meno lui era un avvocato. E Suorida Cavallo, responsabile dell'Istituto Leccese, non ci è cascata e ha denunciato tutto ai carabinieri, raccontando loro delle numerose telefonate intercorse con il 22enne torinese. I militari allora hanno deciso come procedere. Suorida ha spedito a Torino il vaglia da 2.500 euro, che però è stato segnalato a tutti gli uffici postali e reso identificabile tramite la causale a danno degli istituti religiosi. Quando il giovane si è presentato all'ufficio postale per ritirarlo, era già convinto di averla fatta franca, ma a quel punto è scattato il blitz dei carabinieri che lo hanno arrestato. Ora dovrà rispondere di tentata truffa. Nessun lascito piovuto dal cielo era solo un inganno, un becero tentativo di raggiro, ma la giustizia divina e soprattutto la pronta intelligenza di Suorida hanno evitato la truffa e incastrato il responsabile.